Siamo con il sindaco di Rieti per dare il benvenuto al neo-arrivato vescovo Don Vito Piccinonna. Sicuramente per Rieti sarà un dono che da Bitonto arriva in terra reatina. Voi come state prendendo questa notizia? Sono ansioso di conoscerlo di persona perché ho sentito parlare molto bene di lui. Mi ha fatto un'ottima impressione per quelle poche battute che abbiamo scambiato al telefono e quindi siamo lieti di iniziare a lavorare insieme. Sarà bello anche questo, lavorare con un coetaneo sostanzialmente? Sì, il fatto che per noi questa città è un po' inedita questa cosa. Quindi il fatto che ci sia un sindaco molto giovane, perché ho 36 anni, e un vescovo che è il più giovane d'Italia, in effetti è una combinazione sicuramente inedita e nuova. Speriamo che, insomma, io non sono un giovanilista pur essendo giovane, speriamo però che questa combinazione possa davvero portare bene alla nostra comunità perché ne abbiamo bisogno dopo gli anni, insomma, difficili sia della crisi, del Covid, ma in questo territorio più che altro anche dettati dal terremoto del 2016 che ha creato notevoli problemi. Ecco, da una parte il periodo post-Covid e dall'altro il terremoto, di cosa avrà bisogno, di che abbraccio avrà bisogno Rieti da parte della comunità cristiana? Ma innanzitutto la comunità cristiana, la Chiesa Radiocesi di Rieti, sono molto presenti nella vita dei reatini, sono stati molto presenti in questi anni difficili, quindi quello di cui c'è bisogno in questa città, in questo territorio in generale, è un po' di fiducia e di speranza, cioè la capacità di guardare oltre l'oggi, di guardare con fiducia a un domani che deve essere costruito giorno dopo giorno, con la scommessa di provare a rimanere in questo territorio, perché la grande scommessa per noi è convincere nuove generazioni a rimanere a vivere qui, a investire qui, a studiare qui, stiamo facendo grandi sforzi per dotare la città dei servizi che possano consentire, agevolare questa scelta e quindi un impegno sociale da questo punto di vista è fondamentale per noi come istituzioni ma credo che troverà sicuramente anche il favore del nuovo Vescovo, il favore della comunità cristiana che da tempo lavora per cercare di dare a questa città una dignità di un capologo di provincia, peraltro a pochi chilometri dalla capitale, quindi con tante complessità ma anche con grande voglia e con grande determinazione per sfruttare il potenziale che c'è su questa città. Ecco, Rieti è caratterizzata anche dalla memoria di San Francesco, magari può diventare anche una sorta di spinta a far ricordare che davvero San Francesco è passato di qui, è stato qui e magari farlo diventare anche un volano per il marketing territoriale della città. Beh, questo è quello che stiamo cercando di fare già da un po' di tempo e che ci auguriamo possa essere un lavoro condiviso con il nuovo corso della Diocesi di Rieti attraverso l'ordinazione di Don Vito perché la figura di Francesco non è soltanto un richiamo chiaramente territoriale e quant'altro ma è un messaggio, un messaggio a cui il Santo Padre ha voluto dare una sottolineatura importante prendendo il nome di Francesco e un messaggio che peraltro si sposa con quella che è la caratteristica più autentica di questo territorio che appunto è chiamato la Valle Santa perché qui Francesco non è nato ma qui ha probabilmente passato gli anni più importanti da un punto di vista spirituale scrivendo la regola dell'ordine francescano nel santuario di Fonte Colombo che sta proprio nel comune di Rieti e poi facendo la prima rappresentazione del presepe di quello che poi oggi è il presepe quindi una rappresentazione che è in tutte le case dei cristiani nel mondo proprio pochi chilometri da qui a Grecio c'è una grande aspettativa anche su questo è un lavoro che si sta facendo per rendere diciamo consapevoli prima di tutto i reatini del grande patrimonio della grande eredità storica, religiosa, spirituale e culturale che abbiamo e è un lavoro che non può prescindere dal contributo fondamentale dell'attività della diocesi e in questo credo che una figura per come mi è stata rappresentata e per come me l'ha stata rappresentata anche adesso come quella di Don Vito, del nuovo Vescovo che ha a cuore un messaggio molto in linea con quello che è il messaggio di Francesco sia sicuramente un valore aggiunto Ecco, a Rieti oggi è arrivato anche un piccolo albero d'ulivo nel giardino del Palazzo Papale può essere il germoglio per l'unione anche delle comunità quella bitontina che è terra di Don Vito e quella reatina che lo ha accolto? Ma credo assolutamente di sì peraltro una delle sfide che abbiamo in quest'epoca è quella di capire che non siamo più l'Italia solo l'Italia degli 8.000 comuni e dei campanili o meglio lo siamo in quanto necessità di rispettare le tradizioni le identità singole e lo siamo in quanto insieme di tante storie diverse costruite nei secoli ma dobbiamo avere la capacità di rendere questi elementi un momento di crescita e di competitività rispetto ad altri sistemi paese non di dividerci su ciò che è stato rappresentato e che oggi simbolicamente viene rappresentato dai campanili e dagli stemmi dei comuni quindi il tentativo che noi stiamo facendo è quello di aprirci chiaramente come comunità questa è un'area interna quindi è un'area tipicamente un po' dura, difficile spesso forse anche diffidente ma credo che ci sia la maturità in cui ormai da qualche tempo e sicuramente nelle nuove generazioni di voler vedere una Rieti proiettata ad aprirsi a creare dei rapporti stabili di amicizia, di interscambio sia all'interno del nostro paese sia con l'estero lo stiamo facendo con tante iniziative ci vogliamo candidare a Capitale della Cultura per il 2026 e quindi abbiamo necessità, oltre che piacere di condividere esperienze di attivare dei rapporti di, in qualche modo, interscambio anche di, non soltanto di esperienze ma anche di coinvolgimento della città quindi ci auguriamo sicuramente di stringere un rapporto con la vostra città, con la vostra comunità nell'augurio che vi piaccia la nostra e che possiate innamorarvi come lo siamo noi della nostra città